Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Un incidente questa mattina ad Arezzo sul raccordo Arezzo-Battifolle che ha creato davvero un bel po' di putiferio sotto il profilo del traffico. Alla fine è rimasto ferito un uomo di 46 anni, è arrivato poi in pronto soccorso in codice giallo. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 del mattino nei pressi di Ponte Achiani, quindi soprattutto nel momento anche di maggior traffico. Un furgone sarebbe andato a finire fuori strada, come dicevamo il traffico è rimasto temporaneamente rallentato sul posto, i vigili del fuoco per mettere ovviamente in sicurezza l'area, i mezzi del 118 e la Polizia Municipale per i rilievi di legge. E ancora un furgone invece che ha preso fuoco sempre questa mattina lungo la strada che porta a Stroppiello, quindi siamo comunque sempre nei pressi di Arezzo, intorno alle 11 l'intervento dei vigili del fuoco appunto in località nord di Arezzo per questo veicolo in fiamme. Il furgone era accostato al lato della strada e il ruogo stava iniziando proprio in quel momento quando per fortuna sono arrivati appunto i vigili del fuoco e hanno evitato che le fiamme si propagassero, anche in questo caso sul posto la Polizia Municipale per fortuna non ci sono stati feriti. Aveva ceduto droga ad un amico che poi era finito in overdose, era poi scappato senza soccorrerlo, i carabinieri lo hanno rintracciato e denunciato. Era lo scorso 17 luglio quando a Castel San Nicolò, un 43enne, era stato salvato dai sanitari del 118 dopo una lunga manovra di rianimazione. Aveva infatti combattuto per oltre 15 minuti tra la vita e la morte a causa di un overdose di eroina. A cedergli la dose un amico che era poi scappato senza chiamare i soccorsi. Adesso è stato individuato dai carabinieri della compagnia di Bibbiena. I militari erano intervenuti il giorno del malore, il 43enne si trovava esanime in un parcheggio isolato. Immediate le indagini, gli elementi raccolti lasciavano presagire un malore dovuto all'uso di stupefacenti. Dopo aver ascoltato testimoni e ripercorso le ore precedenti all'overdose, i militari hanno identificato il giovane che gli aveva ceduto la dose, un 35enne casentinese che probabilmente imparito da quanto accaduto sarebbe scappato senza chiedere aiuto. Solo alcune decine di minuti più tardi, ritardando così di molto tempo i soccorsi, aveva avvisato i familiari della vittima indicandogli il luogo dove si trovava il 43enne. L'uomo adesso è stato denunciato per spaccio, lesioni e omissione di soccorso. Dopo la lunga scia di furti in Valdarno, che abbiamo anche noi raccontato nel nostro telegiornale, le categorie economiche del commercio, dell'artigianato e dell'industria del Valdarno Aretino, hanno chiesto un incontro al presidente della conferenza dei sindaci, Valentina Avadi, sindaco di San Giovanni Valdarno, per poi incontrare anche prefetto e questore. Più controlli e presidi nel territorio. Dopo la recente ondata di furti che ha colpito in Valdarno, le categorie economiche del commercio, artigianato e dell'industria della vallata hanno infatti formalmente inviato una richiesta di incontro urgente con la presidente della conferenza dei sindaci, Valentina Vadi, per discutere il problema crescente della sicurezza. Negli ultimi giorni, episodi criminosi e danni delle attività commerciali hanno scosso la comunità di San Giovanni, fatti che sono stati segnalati anche a Montevarchi e in altre località del territorio, commentano le categorie economiche. La sicurezza dei cittadini e delle imprese è una priorità assoluta per le nostre associazioni, per questo richiediamo un intervento immediato per arginare l'escalation di violenza. La sicurezza, proseguono, è un diritto fondamentale e imprescindibile. Gli episodi che si sono verificati negli ultimi tempi, come spaccate alle vetrine, furtico scasso, sono inaccettabili e richiedono una risposta decisa e coordinata da parte delle istituzioni. Siamo fiduciosi che la presidente Vadi comprenda l'urgenza della situazione e collabori con noi per garantire un valdarno più sicuro per tutti. Durante l'incontro, infine, ricorderemo alla conferenza dei sindaci di organizzare una riunione urgente con prefetto e questore per valutare misure concrete di potenziamento della sorveglianza sul territorio. Parliamo del grande caldo, l'Italia nella morsa delle alte temperature e allora dalle farmacie comunali arrivano i consigli anche per evitare danni proprio da questi raggi solari. Il sole ci invia una grossa quantità di energia che è utilissima per lo sviluppo della vita sulla Terra. Senza il sole non esisterebbe, però può essere dannosa se colpisce in dosi eccessive la nostra pelle. Da una semplice irritazione, un eritema solare, fino ad arrivare invece a conseguenze più importanti. Il sole è un importante alleato del benessere psicofisico dell'uomo ma una scorretta esposizione può anche causare l'insorgenza di ustioni, eritemi, invecchiamento cellulare precoce sino alla comparsa di tumori. Gli ultravioletti che arrivano dal sole contribuiscono a quello che è il fotoinvecchiamento cutaneo. La nostra pelle, come tutti gli organi invecchia, c'è un invecchiamento supplementare dato dal sole. Le rughe, le macchie, tanto per fare due esempi, sono accentuati dall'eccessiva esposizione solare. I problemi grossi invece sono quelli che non hanno solo una valenza estetica ma riguardano la nostra salute. Il sole, gli ultravioletti del sole, contribuiscono allo sviluppo di tumori cutanei. Fondamentale quindi proteggere la pelle del sole senza rinunciare ai suoi benefici. La prima protezione può essere il vestiario, semplicemente, se si va a fare una passeggiata o anche sulla spiaggia, soprattutto per i bambini, forse la cosa più semplice è tenerli vestiti con qualcosa chiaramente di leggero. Importante è anche l'utilizzo corretto della crema solare sin dai primi anni di vita. Sceglierla è in base sicuramente al proprio fenotipo. Come si sa, ce ne sono sei, penso che ormai sia di dominio pubblico. Si va dal primo al punto al sesto, quindi una pelle chiarissima fino a quella più scura in assoluto. Va messa spesso, direi ogni due ore? Sicuramente sì. Sicuramente appena si esce dal mare, dopo un bagno, è importante asciugarsi e riapplicare la crema perché comunque una parte si perde e quindi va riapplicata. Quanta, anche quello, è molto importante. Si considera più o meno tipo una tazzina da caffè su tutto il corpo, chiaramente. Nel periodo estivo c'è un altro aiuto che ci viene dalla natura. Con l'alimentazione, frutte, verdura colorata, arancio, gialla, rossa, sono ricche di carotenoidi, di antiossidanti che in parte cercano di limitare quelli che sono i danni degli ultravioletti sulla pelle. La prevenzione dei tumori cutanei, infine, passa anche dallo screening dermatologico. Il controllo principale dovrebbe essere quello che ognuno fa a casa propria, cioè ogni tanto guardare la propria pelle, magari farsi aiutare da un familiare per controllare le spalle, i glutei, dietro le cosce, zone che difficilmente si esplorano da soli, e controllare che non ci siano cose nuove, lesioni nuove, soprattutto differenti dalle altre che uno impara a conoscere guardandosi ogni tanto. E poi un controllo annuale con una visita dermatologica e una visita con il dermatoscopio per il controllo dei nei, devo dire che è un'ottima prevenzione e serve soprattutto alla diagnosi precoce. Tempo di estate, tempo indubbiamente di turismo sotto il profilo dell'incoming, quindi dei turisti che comunque scelgono il nostro territorio, sono davvero confortanti. I dati diffusi dall'IRPET nelle scorse ore, la Toscana è pronta a sorpassare i livelli raggiunti prima della pandemia, quindi parliamo del 2019. Il turismo è indubbiamente uno dei motori dell'economia toscana, guai a sottovalutarlo, ha detto il presidente della regione Eugenio Gianni, ma proprio dai dati IRPET emerge che invece il turismo interno ancora soffre. La Toscana in termini di turismo è pronta a superare i livelli pre-pandemia, a dirlo sono i dati IRPET diffusi nelle ultime ore sulla congiuntura 2023-2024. Il 2023 ha segnato in linea con tutto il resto del paese il completo recupero dei livelli di presenze turistiche precedenti alla pandemia con un più 8,8% sul 2022, registrando anche buone notizie per il mercato del lavoro con un'espansione degli occupati e meno precarietà. Ma sono i primi cinque mesi del 2024 a lasciar prefigurare il definitivo superamento dei dati pre-pandemici, grazie ad un solido più 3,1%. A fare da traino sono i flussi internazionali sia nel 2023 che nei primi mesi del 2024. Da inizio anno protagonista principale della ripresa è la componente extra-europea, non nordamericana, con un più 25%, ma ci sono buoni segnali anche dalla stessa componente nordamericana che segna un più 7,4% e quella dal cosiddetto vecchio continente più 10%. Le difficoltà nell'anno in corso riguardano invece i flussi interni. Il costo della vita e l'aumento dell'inflazione provocano una debolezza strutturale della domanda interna. Il calo è importante, meno 8,9% degli italiani e meno 12,8% dei toscani. Dopo un sit-in di protesta e tempi davvero molto lunghi per la sua ristrutturazione, oggi è stato riaperto al pubblico il parco di via Acuto ad Arezzo. Dopo due anni di lavoro oggi inauguriamo e apriamo questa nuova area verde alla cittadinanza di questo quartiere, un'area che da tempo era aspettata e soprattutto non si vedeva l'ora proprio di poter accedere a quest'area che ha una veste completamente nuova. L'aria apertura era attesa ormai da tempo, tanto che i residenti nei mesi scorsi avevano anche organizzato sit-in di protesta. Adesso finalmente è stato restituito alla cittadinanza il parco pubblico di via Giovanni Acuto, un'area di 19.000 m2 completamente recintata. L'investimento monta 2 milioni di euro completamente finanziati dal bando per la rigenerazione urbana e la riqualificazione delle periferie. Comprende attività sportive all'aperto, abbiamo dei nuovi campi da calcetto, un campo da basket, delle attrezzature per i più piccoli e per i più grandi e per le attrezzature sportive all'aperto. Quindi un'area che verrà vissuta in maniera completamente diversa rispetto a quello che era prima anche l'attenzione che i cittadini ci mettevano. Era un'area verde semplice che oggi ha molti servizi. Abbiamo anche un servizio di ristorazione gestito da un privato. Un'area verde che sarà pubblica, aperta tutto al pubblico e quindi gestita come tutti gli altri parchi del comune che però sicuramente avrà una veste nuova in un quartiere che aveva necessità di questi spazi. L'area è anche inclusiva ed accogliente, è infatti priva di barriere architettoniche e al suo interno comprende percorsi tattili di nuova generazione per i povedenti. Credo che sia una buona risposta alle esigenze della città e quindi dei cittadini soprattutto di Pescaiola, di Sandonato, di Tortaia. Questa è un'area verde baricentrica piena di servizi usufruibili da tutte le categorie di persone. I campi da calcetto, gli spogliatoi e il punto ristoro sono stati infine affidati a seguito di un apposito banda ad un gestore privato che ne permetterà lo sviluppo. Il resto dell'area invece rimane ad uso pubblico e a disposizione per tutti i cittadini. Cerchiamo di fare il nostro meglio, di presentarsi il meglio possibile anche per i signori qui intorno alla zona che ci hanno sostenuto e ci hanno dato dell'appoggio morale. È solamente l'inizio in questo posto. Siamo alla pagina della cultura poliedrico e dall'umorismo tagliente. Sarà Alessandro Benvenuti ad illuminare l'agosto teatrale di Arezzo Smart Festival, un progetto di officine della cultura. L'artista, dalle tante doti, con un legame profondo con la sua toscanità, salirà sul palco dell'Arena Eden di Arezzo l'unico prossimo 5 agosto con il suo spettacolo Pillole di me, memorie comiche di Alessandro Benvenuti, una produzione arca azzurra. L'inizio dello spettacolo è previsto per le 21.15. Con il prossimo servizio invece ci spostiamo a Monte San Savino, dove oltre 150 ragazzi si stanno perfezionando in delle masterclass di musica classica. Dal chiostro del Palazzo Comunale di Monte San Savino al Teatro Verdi, la città della Valdichiana, in queste ultime due settimane, ha accolto 150 giovani da tutta Italia e da altre parti del mondo per le masterclass di musica classica che fanno parte del Monte San Savino Festival. Ho chiaramente invitato docenti di fama internazionale come punto di riferimento proprio per fare questo tipo di percorso e credo che ci stiamo riuscendo, stiamo vedendo dei bellissimi risultati. Dal pianoforte al violino, dal violoncello, al canto lirico, al clarinetto per arrivare fino all'oboe. Sì, devo dire che vedere i ragazzi appassionati che si impegnano è una grande speranza in generale, perché è difficile trovare persone che sacrificano molto, perché questi ragazzi per studiare sacrificano moltissimo della loro vita. È un segno estremamente positivo, si parla sempre male delle nuove generazioni, sono distratti e così via, e poi si vedono questi ragazzi e riempie il cuore, veramente. I giovani hanno scelto di vivere due settimane immersi nella bellezza della musica e dell'arte, puntando sulla musica classica. Da un punto di vista dei sogni, cosa c'è nell'elenco? Beh, sicuramente spero che la musica faccia parte della mia vita per sempre, insomma, che poi voglia diventare un lavoro, oppure che rimanga comunque solo come una passione, un hobby, ma l'aspirazione sarebbe appunto quello di farlo diventare un lavoro, e quindi di suonare in un'orchestra, magari un domani. E allora, proprio in merito al Monte San Savino Festival, dopo il grande successo del Candlelight Concert, il festival nella sua seconda settimana regalerà una serata di grande canto lirico dedicata a Giacomo Puccini, in occasione dei cento anni dalla sua scomparsa. Venerdì 2 agosto, nel chiostro del Palazzo di Monte San Savino, alle 21.15, con ingresso gratuito, due grandi interpreti del canto lirico, come Laura Cherici e Bruno Lazzaretti, si esibiranno, assieme ad alcuni allievi, appunto, di queste masterclass, in un galà lirico interamente dedicato alle musiche di Puccini. Continuiamo a parlare di musica, questa volta però di musica corale, perché è tutto pronto ad Arezzo per il 72esimo concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo. 350 i coristi che arriveranno da tutto il mondo per il festival corale più antico d'Europa, con formazioni che arriveranno addirittura dalle Filippine o da Hong Kong. dal 20 al 25 agosto, nei luoghi più suggestivi della città di Arezzo, si terranno concerti, concorsi, convegni e masterclass nel Parco della Fortezza Medicea, poi si svolgerà il 39esimo Festival Internazionale di Canto Popolare. Sarà un agosto davvero di grandi iniziative, anche alla Casa Museo Ivan Bruschi, si parte sabato 6 agosto, in concomitanza con la Fiera Antiquaria, dalle 20.30 alle 22.30, un'apertura speciale ad ingresso ridotto per le notti dell'archeologia, con visite guidate alla scoperta della vasta sezione archeologica proprio della collezione Bruschi. Domenica 4 agosto, poi, torna domenica al museo, quindi entrata gratuita in linea con le quattro sedi di Galleria d'Italia, del Polo Museale d'Intesa San Paolo e soprattutto con le iniziative del Ministero della Cultura. martedì 6 agosto, alla vigilia della festa del patrono di Arezzo, la Fondazione Bruschi propone invece alle 21.15 un'apertura straordinaria della Casa Museo con musica jazz e degustazioni di vino. Mercoledì, poi 7 agosto, in occasione proprio di San Donato, una visita guidata, tematica, ogni ora proprio con approfondimento sulla figura di San Donato. Tutti appuntamenti che necessitano di prenotazione, quindi potete rivolgervi appunto alla Casa Museo di Ivan Bruschi. Siamo allo sport, sarà un valdarnese a partecipare, tra l'altro con sua grande sorpresa e gioia, alla Maratona Olimpica di Parigi. È stata una bella emozione perché non me l'aspettavo, cioè essere contattato mentre sei a fare, mentre sei praticamente a inseguire un altro sogno e sai che parteciperà alla Maratona Olimpica di Parigi. Insomma, una bella botta d'emozione. Insomma, mi sento ancora emozionato, ma mancano pochissimi giorni alla partenza e mi sento ancora molto, molto emozionato. È un sogno che si avvera quello del cavrigliese Ghetano Fresa, che il prossimo 10 agosto parteciperà alla Maratona Olimpica di Parigi, aperta per la prima volta nella storia e non professionisti. Fresa è un ex accompagnatore turistico ed appassionato del viaggio e del running. Già nel 2023 era stato protagonista di un giro del mondo solidale per accogliere fondi a favore di Dynamo Camp e maratonabili. 3-4 anni fa avevo saputo della notizia che è la prima volta che il Comitato Olimpico francese voleva aprire la Maratona Olimpica a tutti e quando l'ho saputo ho cercato il modo di entrarci. C'erano delle selezioni da fare, non era semplice, tramite alcune challenge e sfide varie. Ho partecipato assiduamente per più di due anni a queste sfide e durante il Giro del Mondo dell'anno scorso, perché ho fatto un Giro del Mondo a scopo benefico tramite gare di running, ho continuato a sfidarmi in queste challenge varie proposte dal Comitato Olimpico e ne ho vinta una. Sono stato contattato mentre ero proprio in Argentina a Mendoza. Quindi questo è stato un po' il metodo di selezione per arrivarci. Erano circa due o trecentomila sfidanti, persone che volevano partecipare, sono stati selezionati circa 20.024 partenti. Il primo obiettivo è arrivare, anche perché me la godrò. Cercherò di tirar fuori il cellulare spesso per riprendere più cose possibili, perché voglio godermi la festa. Poi, se ce la farò nelle quattro ore, quattro ore e mezza, che più o meno spero, ben venga. Non sono un corridore fortissimo, non sono uno che è veloce, però il mio obiettivo è divertirmi, raccogliere fondi per i maratonabili, perché la maratona olimpica è una maratona olimpica solidale, questo lo vorrei ricordare. Sto raccogliendo fondi e nei fondi che sto raccogliendo sto annotando tutte le persone che praticamente stanno donando. Chiunque sta donando, io lo sto trascrivendo sulla bandiera olimpica che porterò con me fino al traguardo. Quindi spero di sventolare con più nomi possibili, tra cui il comune di Cavriglia che mi sta sostenendo. Ed infine parliamo di calcio, è tempo di ricominciare a correre per le ragazze a Maranto di mister Ilaria Leoni che si ritroveranno domani, giovedì 1 agosto, al campo di Santa Firmina per l'inizio della preparazione. La squadra si allenerà appunto a Santa Firmina fino a domenica 4 agosto, poi si sposterà a Chitignano per un mini ritiro di quattro giorni dal 6 al 9, poi una volta conclusa appunto questa fase la squadra tornerà ad allenarsi sul campo di Ceciliano. È prevista già anche la data della prima amichevole, ancora però da definire la squadra che affronterà l'Arezzo Calcio Femminile. Dicevamo la data c'è ed è domenica 11 agosto. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortesia attenzione e arrivederci.